Scelte dettate da un forte senso di responsabilità. Sono le prime parole scritte sui social questa mattina dal governatore della Regione Marche, Francesco Acquaroli, per annunciare la decisione intrapresa dall'Aggiunta regionale di rimandare le lezioni in presenza per le scuole superiori e prorogare così fino al 31 gennaio la didattica a distanza, con la possibilità di revocare o modificare il provvedimento in base all'andamento della situazione epidemiologica. I numeri registrati dalle strutture ospedaliere con oltre 600 ricoveri totali, la preoccupazione di una terza ondata e la riduzione dei parametri per l'ingresso nelle zone arancioni e rosse hanno portato il governo delle Marche a seguire la strada intrapresa anche da altre regioni e ad adottare il provvedimento che entrerà in vigore a partire dal prossimo 7 gennaio. Resteranno garantite in presenza le attività laboratoriali e quelle per allunni con disabilità o bisogni educativi speciali. Diversi pareri dei dirigenti degli istituti superiori di Pesaro, anche a fronte dell'organizzazione iniziata prima di Natale per poter raccogliere gli studenti a scuola a partire dal mese di gennaio. Prima di Natale abbiamo appunto avuto il DPCM del 3 di dicembre appunto prevedeva il rientro al 75 per cento, il tavolo prefettizio aveva confermato questo e praticamente insieme appunto all'ufficio scolastico regionale ci avevano tra virgolette in posto comunque ordinato di organizzare l'orario entro il 31 dicembre per un rientro al 75 per cento, poi il 24 dicembre c'è stata l'ordinanza ministeriale del ministro Speranza e del ministro della Salute che comunque appunto riportava la percentuale al 50 per cento, quindi ci siamo organizzati così. Credo che la regione abbia preso una decisione di buon senso e soprattutto all'insegna della prudenza. Le scuole erano pronte a partire al 50 per cento, certamente ci dispiace tutto questo perché gli studenti hanno la necessità di riacquisire una normalità scolastica, però penso sia una decisione ragionevole, siamo in mezzo ad una pandemia e anche la scuola deve apportare il proprio contributo, la scuola è comunque volenti o nolenti un assembramento importante. Credo che sulla scuola si poteva forse lavorare diversamente, certo i dati della regione Marche non sono incoraggianti, però ecco, legendo anche il rapporto dell'istituto di istituzione superiore del 30 dicembre che prende quindi in esame proprio tutto il periodo che va dal 31 agosto al 27 dicembre, lì si dichiara che solo il 2 per cento dei focolai che sono stati insegnati a livello nazionale sono stati nelle scuole. Quindi tutto il lavoro che è stato diciamo fatto di preparazione delle scuole per appunto mantenere tutte quelle misure precauzionali che purtroppo nelle scuole ci sono e si mantengono ma non ci sono fuori, ha dimostrato che insomma questo lavoro ha portato dei frutti.